La Regione Toscana ha deciso di mettere mano al portafogli e ammortizzare il taglio operato dal Governo sulle buste paga dei lavoratori che oggi si trovano a fare i conti con i contratti di solidarietà. Contratti che dopo la finanziaria 2014 coprono solo il 70% della retribuzione persa dai lavoratori e non più l'80%, ma che la Regione ha deciso di integrare di tasca propria attraverso un investimento di 6 milioni di euro complessivi. Noi crediamo che i conti di solidarietà siano uno strumento molto utile perché permette di mantenere al lavoro il maggior numero possibile di lavoratori, distribuendo le situazioni di difficoltà e di sacrificio tra tutti i lavoratori e grazie all'intervento del pubblico mantenendo anche i livelli adeguati di sostegna a reti. Una misura che l'assessore regionale Gianfranco Simoncini ha illustrato anche ai rappresentanti dei sindacati confederali di Firenze, che hanno chiesto un tavolo di lavoro per discutere del ritardo nei pagamenti delle ore di cassa integrazione in deroga. Le risorse disponibili, ha detto loro Simoncini, bastano solo a coprire le richieste arrivate entro il 20 agosto 2013. Il resto deve arrivare dal nuovo governo, che secondo quanto anticipato dal premier incaricato Matteo Renzi, a marzo affronterà proprio il tema della riforma del lavoro. E nel Jobs Act Simoncini spera possano trovare posto sia il superamento della cassa integrazione in deroga a favore di un ammortizzatore unico, sia l'istituzione di un solo contratto di assunzione a tutele crescenti, affiancato però da un altro contratto di apprendistato per chi deve imparare il mestiere. Fermo restando che il tema vero è quello di creare lavoro, non è quello di redistribuire il poco lavoro che c'è tra i tanti che lo cercano, ma di creare nuova occupazione per tanti.